Ciacciato e illuminato questo vasto Girardi, però non è stata una bella prova quella dei tuoi compagni, nonostante il grosso impegno forse eravate un po' stanchi per la gara di Coppa Italia. Secondo me è la prima sconfitta del campionato fino ad adesso, fino ad adesso l'abbiamo fatto veramente bene perché siamo un bel gruppo, poi una sconfitta può succedere, è la campionata ancora a lungo, noi dobbiamo crederci ogni settimana, dobbiamo guardare la partita con Gambatese in casa. Senti il termore che ha avuto in più rispetto a voi? Secondo me le occasioni, gli episodi, perché appena iniziato dopo un minuto il calcio di rigore per loro, poi vabbè pure noi abbiamo avuto 3-4 occasioni però stanno bravi loro a difendere la partita. Voi siete stati bravi negli ultimi 20 minuti, forse avete creduto di più nelle vostre forze nella parte finale. Sì vabbè ma loro stanno 1-0 e è certo che difendono il risultato, poi noi che attacchiamo crediamoci per pagare il risultato, poi va bene così. Senti domenica, sabato anzi, c'è il Gambatese e poi guardate la gara, la sfida fra Termoli e Sernia domenica prossima. Sì, va bene, noi crediamoci ogni settimana, poi dobbiamo guardare pure con Riccia in casa perché pure quello è una bella partita e poi vediamo la seconda fase che succede.